Il Presidente della Camera di Commercio a Rezzi e Siena, proprio ai nostri microfoni, qualche giorno fa ha espresso la sua neutralità rispetto a questo derby che c'è in atto fra Rezzi e Siena per quello che riguarda la stazione dell'alta velocità. Il Comitato Sava come legge questa posizione? A nome degli oltre 7.000 pendolari firmatari la petizione è bel lieto di questa ritrovata neutralità. Non di meno il gruppo scientifico del Comitato continua a concentrarsi rendicontando tutti gli accadimenti dal 2021 finora occorsi e si riserva di valutare con prudente attenzione quanto sinora accaduto e di portarlo in attenzione anche ad eventuali organi giurisdizionali. Le imprese, molte imprese stanno soffrendo ed occorre valutare con prudenza, attenzione e aderendo al merito tecnico ciò che può essere a beneficio di tutti. Secondo voi quali saranno i tempi? Perché insomma il dibattito ormai va avanti da molto tempo. So che nel prossimo autunno ci sarà anche un incontro qui ad Arezzo che parlerà proprio di questo argomento. Ma i tempi quali saranno secondo voi? Ancora settimane e forse mesi purtroppo. Non dettiamo noi l'agenda della politica. Restiamo sufficientemente convinti che troppo tempo purtroppo si è perso. Oggi l'economia, la produttività, le città non possono più attendere. Occorre fare in fretta perché il treno dell'alta velocità sta passando o adesso o mai più. Grazie. Grazie.